Negli Stati Uniti è la prima causa di morte, in Europa è la seconda causa di morte, però bisogna stare attenti un pochino perché la prima causa di morte sono incidenti stradali, ma lì c'è il fenomeno del parasuicidio, cioè vedere quello che effettivamente non c'è nel stradale, un investimento, essere investiti da quei giochi perversi di attraversare l'autostrada o la strada a grande scorrimento, veloce, al buio perché diventano dei giochi di rango nel gruppo. Non sono tentativi di suicidio bascherati, non sono nemmeno realizzati come tentativi di suicidio, ma in realtà sono delle forme parasuicidate. Noi passi con l'inrosso, quando ci sono le macchine veloci, queste sono prove da un lato di essere accettati in un gruppo, ma soprattutto io ho avuto parecchi ragazzi in terapia, dove in realtà era la gestione di un vuoto esistenziale, quindi da adrenalina, ma sono comportamenti para. Grazie. 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 Grazie.